Venerdì sera è tornata l'acqua nel comune di Torraca e nella località Fortino di Vibonati. Nel giro di poche ore gli operai di Consac hanno provveduto a riparare la condotta danneggiata da una frana a casaletto spartano. Un intervento lampo per evitare ulteriori disagi alle due comunità rimaste senza acqua per alcuni giorni. La difficoltà è stato individuare i punti in cui la rete era stata rotta dallo smottamento di terreno. Difatti il guasto è stato riscontrato su un tratto ricadente in una zona impervia. Dopo questa brutta esperienza i due comuni sperano che Consac accolga la loro proposta che prevede la realizzazione di serbatoi in grado di servire in caso di emergenze le aree che ad oggi ne sono sprovviste, in particolare località Fortino e diverse contrade di Torraca in prossimità di Sapri. Si tratta delle zone che per l'indisponibilità di una cisterna a causa della rottura di questi giorni alla rete idrica si sono ritrovati all'improvviso senza acqua.